Ciao ragazzi, adesso andiamo ad allenarci su un controllo orientato, aperto, che poi andiamo a chiudere. Perché? Perché la pressione degli avversari è diventata forte. Quindi, prima pressione debole, poi pressione forte, vado prima ad aprire, poi a chiudere per tornare indietro e fare un passaggio di scarica ad un mio compagno, che rappresenta la porticina. Guardate. Cosa ho fatto ragazzi? Ho controllato in avanti. Perché? Perché la pressione era debole, quindi potevo tranquillamente avanzare. Mi sono accorto che la pressione è diventata forte, vado a fare un taglio per fare un passaggio di scarico a un mio compagno, che è rappresentato dalla porticina. Ragazzi, lasciate un like, commentate e soprattutto iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, per continuare il nostro percorso tecnico insieme. Ciao a tutti!